Papa Francesco è pronto al suo 41esimo viaggio apostolico. Si recherà in Ungheria dal 28 al 30 aprile prossimi, alla ricerca della pace e della speranza. Sentiamo. Un viaggio apostolico che si rivolge all'Ungheria nelle sue diverse parti. È stato presentato così dal direttore della sala stampa della Santa Sede Matteo Bruni, il viaggio apostolico in Ungheria dove il Papa si recherà per la seconda volta dal 28 al 30 aprile prossimi, a distanza di un anno e mezzo dalla sua partecipazione al congresso eucaristico di Budapest nel settembre 2021. Un viaggio composito che si rivolge a tanti soggetti e si svolgerà per intero a Budapest, ha proseguito il portavoce Vaticano. Con questo, che è il 41esimo viaggio del Santo Padre, saranno 60 i paesi finora visitati. Un viaggio che vuole raggiungere diverse parti della società e della chiesa del paese, in cui il governo locale si sta adoperando per favorire il più possibile la partecipazione, facilitando i viaggi interni per consentire di raggiungere Budapest, ha detto Bruni. Tra i possibili temi del viaggio, in primo luogo, la speranza. Come essere cristiani anche in tempi difficili, la domanda a cui rispondere, senza nasconderci le difficoltà. Siamo a poche centinaia di chilometri dal confine con l'Ucraina, ha fatto notare Bruni, riguardo a possibili parole del Papa sul dolore e sulla ricerca della pace. Tra i momenti salienti del viaggio ci sarà anche un incontro con i rifugiati. In Ungheria ci sono tanti rifugiati ucraini, ma anche tanti rifugiati da diversi luoghi che vogliono raggiungere l'Europa dalla rotta balcanica, ha sottolineato il portavoce Vaticano, secondo il quale anche la sfida ecologica in un paese come l'Ungheria, che conferisce a questo tema grande attenzione, potrà essere un argomento dei sei discorsi del Papa, tutti pronunciati in italiano. A Budapest, città dei ponti, non è possibile inoltre non pensare all'Europa. Tramite l'Ungheria il Papa potrà dire una parola sull'Europa, nata come costruzione appassionata di comunità di nazione, interrogandosi sul ruolo dell'Europa sul piano politico, ma anche sociale e culturale, su un'Europa di popoli con un impegno per la pace globale. Altri temi possibili citati dal direttore della sala stampa vaticana ci sono la vita, famiglia, ruolo dei santi giovani come San Martino, Santo Stefano, primore cristiano dell'Ungheria Unita, o Santa Elisabetta d'Ungheria, ma anche lo sforzo ecumenico della Chiesa ungherese.